E' stata fin qui una Final 8 di Under 19 straordinaria, ci sono arrivate in finale la L84 e l'History Roma 3Z, probabilmente quelle che si sono dimostrate le due squadre più forti lo scorso anno, questa è stata la semifinale. Oggi si assegna la coccarda tricolore, buongiorno dall'Emilia Romagna Arena di Salso Maggiore Terme, amici del Futsal, Matteo Santi in cronaca, la finale della Coppa Italia Under 19. Si parte, è l'History a gestire il primo possesso di questa finale di Coppa Italia Under 19, che punta in buca, anticipo secco di nuovo, che prova a ripartire, nuovo, 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 Prudensi va a chiudere. Vogliono una manovra un po' più precisa, con un pochino più di qualità, però l'atteggiamento... Occhio a Russo! Il break all'improvviso, il lampo di Russo, l'L84, e avanti nella partita, nella finale, 1-0, la sblocca Russo. Corner battuto dal 10, si muove, De Felice a sinistro! Tre gol in due partite, Simone De Felice porta al raddoppio, l'L84, una sassata di Mancino, Prudensi mobile, 2-0. Novo, però a passare su di Tata, vince contro a Stanovo, finta, Novo! La stella del 7, illumina l'Emilia Romagna Arena, 3-0, l'84, giocatona di Simone Novo! Novo, il 24, la stella del 7, illumina l'Emilia Romagna Arena, 3-0, l'84, giocatona di Simone Novo! E avendo un tiratore come Giubilei, è un'occasione d'oro, parte il 2, botta terrificante! Ancora, Jacopo Giubilei, 3-1, un missile, terra-aria del 2, che fa a segno, che bomba pazzesca! Prova a andare in diagonale, anticipa di Stefano, che fa correre di Tata, grande giocata di Tata, Veronica di Tata, fino in fondo, assist! Scalpella la pietà di Stefano! L'History Roma 3-Z, per uscire dalla buca, arriva di Tata, punta la porta, diagonale Messina! Questa è una grande chance! 14 secondi alla fine del primo tempo, De Felice lascia sul posto, Fazziani se ne va! De Felice di punta, Prudensi! De Felice, Fed, Schettino e Russo, subito! In avanti, 10 secondi, la doppietta di Russo, nell'84, ritorna al massimo vantaggio, più 3, siamo 4-1, poker calato! Pepe, anzi Novo, ora Schettino, prova l'imbucata, break di di Tata, passa di Tata, di Tata, per Fazziani, assist! Entra col pallone in porta, l'History Roma 3-Z, che è in partita, 4-2, Davide di Tata, la grinta nel capitano! Spara la piazza, 4-3, segna di Tata, deviazione, sotto misura, sulla conclusione di Giubilei! Con Novo, che frana sulla panchina dell'History, che è già dall'altra parte, di Stefano, per Fazziani l'autorete di De Felice! 4-4, parità, remuntata, completata, a metà della ripresa, è 4-4! Le finte, destro deviato! La palla resta lì, arriva Giubilei, suolata, esce su di lui Garofano, duello iperfisico! Traziani dentro, Zago, Russo! Prova, una giocata rischiosissima, perde palla, Messina, Messina, Messina! Messina! L'History Roma 3-Z è avanti, per la prima volta della partita! E lo fa, nel momento più importante, a 5 dalla fine, Alberto Messina! 5-4! Poi De Felice, Novo, prova a farla riuscire, la ruba di Tata, fuori! Trovando Valenzi, che isolato, non riescono più a recuperare palla quelli dell'L84, Messina la calcia via! Suona la sirena, in back-to-back, l'History Roma 3-Z si conferma campione, vince la Coppa Italia, anche nel 2022, bissando il successo dello scorso anno, una rimonta fantastica della squadra di Zaccardi, che ha sofferto le pene dell'inferno, contro una squadra incredibile, piena zeppa di ragazzini, come l'L84, ma alla fine la forza dei campioni si è confermata, vittoria, 5-4! Grazie!